Per il ciclo il mio nome è Bond James Bond Potete scommetterci Riscotti la mia vincita Come lui, non c'è nessuno Ci vogliono ancora 5 giorni per arrivare in Alaska L'agente segreto che va a nozze col pericolo Auguri e figli maschi James! Il solo, l'unico 007 Una scelta eccellente, lei mi diverte signor Bond Roger Moore è Agente 007 Versaglio mobile Sabato 21-25 Rete 4